roma napoli andiamo all'olimpico roma napoli ok roma napoli roma 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 olivera va bene anche oggi libera non giocherà questa voglio fare leandro spinazzola e scalare giannino di lorenzo ok no però faccio giocare mazzocchi a destra si blocco mazzocchi con spinazzola che scende si yes baby fammi vedere lui come gioca ok doppia punta avanti va bene blocco mazzocchi prossimo step sarà modulare il nostro gameplay anche in base allo steggio che si quello penso che ormai è praticamente quasi arrivata questa questo momento fra c'è effettivamente non ripeto penso sia quasi arrivato questo momento per ovvi motivi quindi dovrò cominciare a farlo comunque andiamo al match serve una tattica si serve una tattica secondaria anche per i secondi tempi in cui magari passo a 4 passo a 4 con un 343 o passo proprio a 4 dietro 433 puro me la devo un attimo studiare un po magari come ho fatto inizio di questa season che non era male in realtà è un 433 classico vediamo sicuramente si parte attenzione attaccato ora ma con roberto carlos col solito roberto carlos provate ad entrare dentro in chiusura di lorenzo palla per lo botta va centralmente male attenzione maradona si gira diego diego mamma mia volante 1 a 0 eh lo so lo so in realtà dovrei rinunciare a maradona sotto certi punti di vista per giocare con gli esterni parlano la stessa lingua calcistica mazzocchi palla verde lo botca sbaglia ancora lobo torna di lorenzo fortunatamente di lorenzo vada maradona cerca diego maradona maradona provare andare da lucaco si gira sul destro lucacola alza dall'altro lato la parata poi di curto a dopo una direzione siamo sotto però ragazzi maradona cerca buongiorno che prova a tenerla lì c'è caraschela non riesce a metterci il piede e riparte ancora roberto carlos torna lo botca lo botca su carlos palla dentro di lorenzo buongiorno anghissà provare andare subito dentro zammo anghissà buongiorno lakmani anghissà riusciamo ad uscire qui con lo botca che sbaglia tutto si fa trovare il posto giusto di lorenzo alza questo pallone cerchiamo di salire un po la palla finisce dai parti di maradona molto confusa molto confuso in questo momento rinancio lungo la palla è tenuta in campo incredibile anghissà palla per caraschela va dentro da spinazzola che deve arrivare al cross in mezzo per lukaku palla fuori di messa al fondo ma non sempre si sente il 4-4-2 con maradona sp questo sì potrei fare anche il 4-4-2 con maradona sp e gli esterni alla fine molti possono giocare cld si vabbè si deve sicuramente creare perché a volte soffro veramente troppo ancora sto cazzo di oland ragazzi la mare è passato ma è retta riusciamo ad uscire chiudiamo ancora con un po di fortuna e garra per così dire ma stiamo soffrendo veramente tantissimo con caraschela che prova andare dentro da lobotka cerca maradona palla per lukaku va da di lorenzo palla per lobo scende lobotka proviamo a costruire con spinazzola spinazzola va dentro la palla non passa di spina palla dentro verso maradona recupera raccomani schiena sola anghi sta scende zammanghissà anghi sta fino in fondo sbaglia zammanghissà sono effettivamente anche adesso è come se non avessi sbocchi lobo carico la palla va centralmente la maradona attacco per lukaku la mette per maradona ancora per lukaku si gira lukaku non sono riuscito ad arrivare al tiro qua ora il lorenzo che non ha lobotka santo giannino perchè lo bocca con la schede attenzione courtois va con la schede a danilo spinazzola riguarda una gran palla scende spinazzola spinazzola tiene in fondo rientra spinazzola va dentro spinazzola ancora riguarda palla attenzione spina vada maradona cerca dentro anghissà via maradona qui attenzione mamma mia a 5.000 eh meret rilancio lungo palla verso maradona riesce a recuperare sbagliamo ancora qui alto verso holland maradona torna spina messi spinazzola riusciamo palla con spazza per favore grazie faraschelia prova a girarla per maradona non riusciamo a imbastire una decente azione d'attacco qui recuperiamo ancora anghissà ancora rilancio verso lukaku palla per maradona dentro per faraschelia che si gira faraschelia prova ad andare dall'altro lato da lukaku ma loro sono tornati come dei bastardi incredibili spinazzola però torna ancora sommessi loro vanno dentro da diego mamma mia di lorenzo qua fa un miracolo buongiorno la rilancia anghissà palla per mazzocchi vada caraschelia che si gira maradona torna dietro dallo botca appoggia ad anghissà proviamo a costruire qualcosa anghissà va dentro sbaglia tutto non lo so ragazzi c'è qualcosa che non va raccomani in chiusura spinazzola palla per anghissà proviamo a andare subito dentro per caraschelia che prendere campo palla per lukaku lukaku dentro per maradona viene spostato all'ultimo secondo lo botca palla per anghissà va dentro da caraschelia prova a imbucare per diego niente da fare ancora buongiorno va dentro buongiorno la palla non passa spinazzola caraschelia dentro per diego niente da fare opportunità di ripartire riparte ancora la roma palla dentro siamo sbilanciatissimi torna di lorenzo c'è messi che la mette dentro meretta finisce il primo tempo e arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco il primo tempo va in attivo con un su tabellino di almonese non ho mai non ho mai tirato in posto negli ultimi 45 minuti però può ancora succedere di tutto proviamoci a continuare a credere in se stessi insistere nel loro modo di giocare così possono ribaltare la situazione e 4 4 e devo tagliare quara no quara non lo tolgo quara che qua metto qui avevo tolto e c'è la boccia c'è la cls mai c'è l'edì vai ma già provo proviamo proviamo un 4 4 2 per l'arragare di più il gioco palla per mazzocchi scende mazzocchi mazzocchi cerca subito spinazzola scende spina spina ancora ma sto giocando io spino 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 lukaku è una uno forse non sta giocando ragazzi però si grandissimi ragazzi con tutto il rispetto non sta giocando una uno col di lukaku per liberare così bene un finalizzatore di razza normalmente sorvegliato speciale ma non sta giocando come si attacca i movimenti di tutti devono essere ben coordinati cose strane di lorenzo palla per quara schella che non riesce ad andarla a prendere lukaku courtois courtois ma cosa sta facendo spinazzola provano ad allargare qui torna anghissà anche spina palla dentro buongiorno a recuperare palla va dietro da mazzocchi cerca spinazzola larghiamo ancora il gioco spina tiene palla in campo prova ad andare lungo da lukaku niente da fare spinazzola provano ad allungare loro messi anghissà lukaku l'appoggia spinazzola subito dietro per lukaku la ridà spinazzola che l'alza per maradona non è proprio l'idea migliore recuperano loro attenzione qui però non scoprirci troppo Roberto Carlos se ne va torna di lorenzo di lorenzo prova ad andare in chiusura mamma mia rimessa da fondo maradona mi ha anticipato meret meret non c'è un po' di alex meret ha perso lukaku che riesce a staccare per spinazzola scende spinazzola provano ad andare dentro da lukaku maradona caraschelia dentro per romelo che si gira romelo lukaku 2 a 1 doppietta di romelo doppietta di romelo doppietta di romelo 2 a 1 siamo passati noi attenzione palla dentro caraschelia prova a pressare prende palla lobotka scende lobo va lobo lobo ancora lobotka fino in fondo spetta lobotka torna dietro da caraschelia che può sparare di sinistro niente da fare buongiorno spinazzola lukaku palla dentro per spinazzola non riesce ad arrivare al passaggio al tiro spina torna maradona rilanciano lungo loro di lorenzo palla per caraschelia scende caraschelia va dentro a lukaku si gira spara lukaku ma dove l'ha messa romelo lukaku tripletta magica ma dove l'ha messa romelo lukaku ragazzi dove cazzo l'ha messa romelo lukaku allora c'entra un po' gilmore se sbaglio un passaggio così poi ah porca trota fammi dire eh politano puoi giocare cld vai ma puoi giocare anche cls no cld lo facciamo giocare al posto di quara eeeh ok fatemi provare però fatemi provare questa cosa quara di la politano di qua ok eeeh c'ho davide neres provo a farci andare a giocare c'ho rafa marin va bene scott mctominy foro ruscio lasciamo un attimo così meh 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 diciamo che sta tattica secondaria potrebbe essere molto interessante meh come sempre salvio da buon mister attenzione di lorenzo palla per anghissà lukaku di tacco per quara schella cerca subito dentro maradona niente da fare anghissà palla per gilmour sbaglia gilmour palla dentro prova ad attaccare la ruma gilmour prova a rientrare mazzocchi in chiusura cross in mezzo buongiorno anghissà palla dentro per lukaku scende lukaku palla per politano dentro ancora per lukaku vada quara schella niente da fare insieme tutto a gilmour prova a staccare politano gilmour lukaku palla per quara schella che rientra quara schella 4 a 1 qui c'è quara schella segna anche da esterno di centrocampo cambio di schema fra perché non riuscivo a giocare quindi in realtà penso che l'ho mandato totalmente in confusione col 4 4 2 penso che veramente l'ho mandato totalmente in confusione col 4 4 2 del secondo tempo quindi si ho io adesso chiaramente dovrò staccare l'ho abbandonato quindi attendiamo che se ne vada affanculo e niente io a parte le battute come già avevamo detto prima di iniziare questa partita poi lo abbiamo fatto praticamente durante la partita bisogna creare la tattica secondaria che potrebbe essere molto facilmente il 4 4 2 perché ci da un po' di stabilità comunque sempre in difesa però ci fa allargare un po' di più il gioco comunque io bene così grazie salve come sempre per le dritte e anche perché io effettivamente vedere la partita così in maniera un poco in cui non ci sei dentro ti fa vedere tante cose quando si è concentrato a giocare è un po' più complicato comunque ragazzi bene così io devo staccare ci vediamo se tutto va bene magari domani mattina se riesco farò la live domani mattina ci aggiorniamo come sempre sul gruppo telegram ma io come sempre buona serata e forza Napoli